Ancora un altro incidente mortale sull'autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi di Villa Abate in direzione del capoluogo. Stavolta a perdere la vita è stato Francesco Arancio, 55enne camionista palermitano, che per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada con il proprio mezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di oggi pomeriggio e dai primi rilievi della polizia stradale non risultano segni evidenti di frenata, il che potrebbe fare pensare a un guasto o a un malore improvviso dell'autista, anche perché l'incidente non ha coinvolto altre vetture. Il camion, finito in una scarpata, ha abbattuto prima tre arbusti per poi finire schiacciato sul lato destro sotto il peso di un albero. Per il camionista non c'è stato nulla da fare, quando i medici sono giunti sul posto l'uomo era ormai morto. Ad intervenire sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e i mezzi dell'ANAS. Particolarmente difficili le operazioni di rimozione del mezzo pesante, anche per questo sull'autostrada il traffico è rimasto paralizzato per tutto il pomeriggio e si registrano ancora lunghe code in direzione Palermo.